Una videosfera per entrare nel mondo della marineria, entrarci non solo dal punto di vista fisico ma anche emotivo e sensoriale. La struttura verrà installata per la fine di maggio. Si tratta di un museo interattivo e dinamico per immergersi nei valori e nella cultura del mare, che contraddistingue Fano. Il sindaco Seri presenta una novità importante per la città che abbraccia anche le proiezioni sull'acqua con la riqualificazione del tratto del porto Peschereccio. Nei prossimi giorni partiranno una serie di confronti con la città dai residenti a chi lavora nell'area portuale nel mondo del mare per condividere quest'idea e raccogliere le istanze. Oggi vogliamo portare un ulteriore segno forte di richiamo, di attrazione, che ci lega proprio alla nostra storia del mare, ai suoi valori. Una videosfera, una videosfera che richiama la vongola, che richiama il nostro mare, che avrà la capacità di emozionare e coinvolgere e suggestionare tante persone che decideranno di venire poi a visitare e immergersi. Ma non ci fermiamo qua. Vorremmo pensare come abbiamo fatto una darsena borghese, sfruttando i 35 metri di muro, anche installando delle apparecchiature che ci consentiranno di fare un gioco di luci durante l'estate nel lungomare. Io penso che questi saranno due elementi che veramente porteranno tante persone della nostra città e diventerà punto di riferimento. E con la chiosa anche un intervento di qualificazione del borbo marinaro, ma quello sarà per il 2025. Quindi un altro obiettivo per rendere Fano sempre più bella, attraente. La videosfera, che sarà a forma di vongola, racconterà l'economia del mare, le tradizioni e l'identità della città. Il diametro della struttura sarà di 12 metri e verrà collocata all'inizio del ponte del Lido, così da rendere l'area piena di storia della tradizione marinara. Il progetto definitivo sarà condiviso con la città e presentato il 24 gennaio, all'interno degli stati generali del turismo. A curare e seguire questo percorso è stato l'assessore al turismo Etienne Lucarelli. Un progetto al quale lavoriamo da tempo perché riteniamo che la tradizione marinara debba essere valorizzata e oggi ci arrivano queste bellissime immagini da dei progettisti che abbiamo scelto e che identificano nello scimitar, nello iate e nella nuova vongola dei luoghi dove veramente si possono avere le grandi suggestioni che può raccontare la nostra tradizione marinara. Una su tutte è la vongola, questo luogo magico dove si potrà entrare 30 persone alla volta con un video a 360 gradi, con un audio in ambiente atmos, ecco veramente tutte le suggestioni del racconto della nostra storia della marineria. Una serie di luoghi, un ecomuseo diffuso che ci farà passeggiare in tutta la zona del porto e che farà vivere tutto il racconto delle nostre tradizioni marinali.